Allora, in questo momento noi stiamo vedendo come funziona una ciclostyle, una ciclostyle, questa qua, in sostanza è un duplicatore stencil, è un sistema di stampa meccanico utilizzato per produrre stampe di bassa qualità e a costi contenuti, aspettate che adesso ve lo faccio vedere meglio, eccolo qua, si basa fondamentalmente sullo stencil, ovvero il trasferimento del colore attraverso una maschera perforata o sagomata, per scrivere i testi essi vengono battuti a macchina senza nastro su un foglio di carta, velina cerata, in modo da creare un varco dell'inchiostro che sotto la spinta del rullo pressore si trasferisce sul foglio da stampare, l'operatore in questo momento chi è? E' Antonio che arriva dalla Sicilia in esclusiva per la stampa con questa tecnologia modernissima, stiamo provando, ecco qua il risultato. Allora, il prossimo speriamo che venga meglio, mi raccomando mettete un like sui social, eh? Deve essere più rinassato nel tenere il foglio. E' un volontario, eh? La variabile qua è che... No, il problema è che il tavaro non è... Nessun foglio stampato, non è abbastanza... Esatto, tutti diversi. Ok, finito? Fatemi vedere il risultato. Si può? E' questo? Questo è il risultato. Ok, grazie.